Mi chiamo Paolo, vivo a Roma e vi mostrerò i miei tre oggetti che mi rappresentano. Il primo è una foto delle nostre galline, bianchina e marroncina. Il cocinito è un maialino messicano che ci ha dato un bambino in un viaggio in Messico che abbiamo fatto con mia moglie. L'ultimo oggetto è una passione recente. Che è la corsa. Il tema della serata saranno le nostre galline, bianchina e marroncina, che ci ispireranno sia nel menù che nell'accoglienza dei nostri ospiti. Lei è mia moglie Marzia che starà con me ai fornelli questa sera. Tutto, tutto, tutto. Le coprite con un coperchio. Copro? Se ci sembra un po' asciutta Marzia, se ti sembra un po' asciutta. A me mi sembra allagata. Estempara!